12 le squadre provenienti da tutto l'Abruzzo ma anche da fuori regione che hanno animato il torneo del Mastro Giurato, organizzato dall'Azzurra Basket Lanciano. L'appuntamento sportivo interregionale giunto alla settima edizione si è svolto nella prima parte al Costa dei Trabocchi Sporting Club di Rocca San Giovanni e in quella conclusiva al Palasport di Lanciano. È un torneo, dichiara il presidente dell'associazione organizzatrice Ezio Grappasonno, che permette ai ragazzi di confrontarsi sul campo e di socializzare con i propri coetanei ma anche di misurare la propria preparazione. Momento toccante è quello in cui Marco Lombardi, general manager dell'Azzurra, ha parlato di Fabio Pasquini di Treglio, scomparso tragicamente a 31 anni nel 2020 in un incidente stradale sulla statale 16 a Fossacesia. All'epoca era capitano di una squadra di basket. È entrata così nel vivo la stagione dell'Azzurra Basket, che si è arricchita di diverse novità, confermati per quanto riguarda i preparatori, i pilastri dei diversi movimenti, dal mini basket con Anna Maria Di Rocco, alle giovanili maschili con Mauro Di Matteo e femminili con Jacopo Pardi. Il direttore sportivo Marco Daddario ha fatto diversi innesti nello staff. Il primo porta il nome di Benedetto Salomone, che guiderà la prima squadra nel campionato di Serie D, affiancato da coach Giorgio Rosito. L'area fisica di tutto il movimento sarà sotto la responsabilità di Giuseppe Aimola.